Allora dove siamo diretti? Non dirmi ancora da qualche parte laggiù! Credimi, vorrei darti una risposta precisa Dexter, ma sono sicuro che là fuori c'è una nuova fonte di eco. Altro eco? Ne sei proprio certo? Ah, quello che so è qualcosa di diverso, prova potente, e noi potremmo non essere gli unici interessati. Perché ho come l'impressione che dovrò di nuovo salvarti le chiappe? Beh, sei fortunato, non ho impegni per oggi, e neanche per domani. So che tu mi coprirai le spalle, Dex. Non è quello che faccio sempre!